I sindacati del settore testile non nascondono la loro preoccupazione. L'ennesimo tentativo di rilanciare la ormai defunta ETR rischia di naufragare. Il campanello d'allarme è suonato quando si è appreso che la IKF, la società di investimenti che controlla la OTI, ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo per via di alcuni contenziosi legati alla cessazione di attività di altre due aziende del gruppo. Si teme che questa decisione finisca per travolgere anche la società di Pettoranello, che a sua volta si trova a fronteggiare una situazione delicata, spiega Francesco Di Trocchio, segretario provinciale di Sernia della Femme Cacisl. Siamo preoccupati perché OTI rappresentava il trampolino di lancio della vecchia ETR. È chiaro, i numeri non sarebbero stati quelli della vecchia ETR, ma poteva essere prodromico di un'inversione di tendenza, quindi di poter ricreare occupazione, lavoro e rilanciare la filiera. Indipendentemente dalle difficoltà di IKF ci risulta che OTI abbia problemi di carattere finanziario, pare che ci siano delle pendenze con la procedura di liquidazione della ETR e ci risulta che anche gli stipendi siano in costante ritardo. Attualmente la OTI impiega circa 40 dipendenti per lavorare su due marchi, ma segnali di una possibile crescita non si intravedono all'orizzonte. Di diverso avviso la IKF, in una nota, oltre ad annunciare un incontro chiarificatore per settembre, ha rassicurato i sindacati, precisando che l'obiettivo della richiesta di concordato preventivo è proprio quello di mettere al riparo da rischi il piano di rilancio industriale della OTI. Ma i sindacati sono scettici. Ma le rassicurazioni da parte di IKF non vi convincono più di tanto? Sono formali come quelle che proponeva Bianchi e poi abbiamo verificato le sorti della ETR Targata e Bianchi. Noi ci auguriamo che OTI faccia un salto di qualità e che quindi mantenga i livelli occupazionali e che addirittura ci sia una prospettiva di aumentare questi numeri perché la provincia di Sernia e la città di Sernia è veramente in uno stato di disperazione. In questo momento c'è un dramma occupazionale ma man mano che finiranno gli ammortizzatori sociali ci sarà un dramma di carattere sociale perché le famiglie non avranno più sostegno al reddito e la politica dovrebbe rendersi conto di tutto questo ed accelerare la tempistica per il riconoscimento dell'area di crisi e le risorse contenute nel riconoscimento dell'area di crisi.